che è tutto in pompa ciao ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video siamo nella nuova modalità competizione salti di rigore simile a quell'altra che stava prima e oggi siamo con l'aira buonasera 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 è buio fu è buio fu ragazzi a differa io sono il primo primo sei incredibile volevo spiegare che è praticamente uguale all'altra però a differenza che non ci sono gli avversari che ci ostacolano e dovevo andare a prendere il punteggio allora io vorrei fare qualcosa di molto scolato quindi andare a prendere almeno un 3 perchè il 4 non lo so tu che dici che non riesci no no lo sto superando il 3 diverso guarda 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 dai guarda che la macchina slitta ma dove vai sul 4 dai cadi cadi guarda che ce l'ho fatta oh no sono caduto ce l'avevo fatta ho visto in pratica raga un attimino più avanti tu dove stai tu devi ancora farlo giusto si adesso tocca uno dell'altra squadra però sta dormendo praticamente praticamente sta dormendo niente raga vi stavo dicendo è diverso dall'altra perchè la schermata è su un solo giocatore quindi è a turno diciamo così il problema è che vedete il tizio sta fermo perchè se andate in bagno a fare qualcosa sicuramente e scusate qualcosa di sconcio si di molto 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 sconcio molto sconcio veramente no non diciamo queste cose ancora poi eccola vediamola vediamola subito attenzione come minimo mi devi fare un 5 punti di botta proprio no 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 io punto su un 3 dai ma vedi che puoi proprio andare a superare 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 si ma piuttosto che magari non fare niente è meglio farne uno più piccolo più piccolo giustamente vediamo che poi abbiamo ma vedi il giallo quanto è piccolo c'è proprio un criccat vai eccola oh levi oh levi ti sarebbe garbato prendere il numero 3 è abbastanza è un gioco volevo dire l'attività questo qua noi facciamo i commentari perchè giustamente è a turni no quindi io non sto facendo niente adesso vediamo il campione qua il grandissimo aj dinp97 cosa combinerà? ma va sul 2 guarda si ma troppo tardi per accadute no è pazzo no 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 guarda guarda dai 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 ma è un casino eh perchè hai troppa cioè il colpo che dai giù è troppo forte ti fa andare sempre avanti cioè poi non puoi manco frenare tu volevi il freno volevi il freno comunque ragazzi per questo video lasciate like ovviamente iscriviti al mio canale e anche quello di Laira che l'ho trovato in descrizione che come al minimo fa sempre i dolcetti giusto Laura? no no è vero fa leggare ragazzi quindi vi consiglio di dare un'occhiata mo vedi che va sull'1 guarda e beh magari almeno facciamo un punto magari all'1 mo cade giù pure all'1 tipo dai punto al 2 penso io dovrei mettermi in parti perchè c'è uno che si accesa il microfono a meno che non lo vada a mutare allora siamo a 2 punti vai e contro 0 2 punti minchia potevamo fare di più peccato io che sono caduto oppure tu sei caduta eh si è figa te un altro che si accesa il microfono ma che è? oh ma incredibile ma non dite tra l'altro si chi è? mo non parla più ho fatto start amici ho sentito il rumore del microfono acceso tipo stavamo dicendo dai ma seriamente ma seriamente ma seriamente che ragazzi attività è molto stronza perchè ovviamente non vi fa usare il freno e quindi manse proprio vediamo questo qua se riesce a campare già sta andando storto e non mi piace eh sta andando storto dai ma vedi che va guarda ma va sui cosi di sopra guarda a momenti a momenti va sui cosi di sopra dai che ce la puoi fare ma vedi che urta la popparacaduta al tubo guarda 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 stacca 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 ma dove va voleva andare al 4 voleva andare al 4 gli piace essere il numero 4 vai oh grandissimo grandissimo dark dragon xx03 mamma mia però visto che è successo a lui la macchina non gli è andata avanti gli ha girato si forse bisogna lasciarsi quando stai proprio sopra non prima che poi la macchina va giù bisogna far così ok gli avversari se tu sterzi la macchina va in per la direzione un attimino non lo so può anche essere dopo proviamo speriamo bene comunque ragazzi ora c'è Banz che è un avversario avversaria forse che è il processo è femminile poi non si sa e vediamo cosa combina io butterò la scaronia totale giustamente sui avversari ma vedi che ti fanno 40 punti di bot vanno tutti sull'uno ma poi come fai ad arrivare al giallo questo è troppo basso minchia giù 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 hai visto che ha fatto ha girato che amata nera ma vedi l'attività non scaricata comunque raga ora è il turno di azzedi squadra nostra di nuovo yes scusami non è prima tutta la squadra nostra poi tutta la squadra loro no no va uno alla volta per ogni squadra ok minchia siamo 6 a 4 ma cosa fa vai fai un 3 almeno fai un 3 grandissimo dai almeno un 3 abbiamo capito come si fa si eh ma sul 4 è un bel po' complicato farlo eh a meno che non fai la sterzata quella sexy guarda che non carica madonna ok faiz yosef 112 che ovviamente è venuta a mangiare a casa ieri comunque vai dai vai ora vedi che fa tutte le acrobazioni oh quanto è saltato questo tantissimo minchia questo vuole andare sull'uno questo vuole andare sull'uno ma è quasi impossibile vuole andare sul 5 non sul 1 l'uno si io ho l'uno perchè era uno l'unico guardalo oddio no volivi come cazzo si fa andare lì devi praticamente lasciarti prima casino eh vabbè vincitura abbiamo vinto il primo round ora facciamo il secondo speriamo di fare almeno un bel punteggio abbiamo fatto 0-0 io e te e gli altri fatto 3-2 giusto attenzione secondo round si parte ok salti di rigore poi ragazzi ci sono altre mappe che sono piuttosto fatte meglio ecco diciamo così vai tocca a me tocca a me vai dove vado sul 3 dici per non rischiare per non rischiare si se vuoi rischiare spazzando dai ok ho preso più rincorsa se hai visto l'ho fatto eh ma io non riesco nel 3 lo supero qua no non riesco vado sul 4 no 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 cosa stai facendo cosa stai facendo vado sul 4 vado sul 4 sterza verso una direzione lascia dai dai così dai 4 punti subito oh no ti giuro mi sono fatto male al dito perché per frenare anche se non si può schiacciare il tasto ragazzi l'ho sbannato male vai oh siamo già partiti con 4 punti cosa che prima non è successa quindi buono è Don Vincenzo qua che guarda vai a far il prete no Don Vincen si chiama ok vediamo cosa 2 sul 3 vuole andare vuole andare sul 3 vediamolo 4 non ce la fa troppo veloce che cade le ultime parole fa molto ok Laura ora tu devi recuperare qua perché siamo 4-4 quindi adesso per forza devi fare un bel punteggio vai siamo tutti con te ragazzi raga mettere ansia like per Laura se riesce I believe I'm gonna fly questa canzone devo mettere come per tutto il video ok si prepara parra cadute punta al 3 si perfetto grande almeno 3 siamo già a 7 punti giusto si 7 punti quindi spero anche gli altri ok c'è DJ Alfino qua vai è partito è partito ok ragazzi sta andando sul 3 sta andando sul 3 vediamo cosa combina no vuole puntare a 4 ma va un po' basso ma invece cade cade volevi hai visto che ha fatto lui si è lasciato alla fine così ha avuto l'urto e l'ha spostata avanti ecco come funziona niente siamo sempre in vantaggio noi ma adesso c'è l'avversaria quella forte quella ragazza di prima quella era forte prima che ha fatto un 4 spettacolare non mi ricordo ho già giocato non mi ricordo c'è Giacomo Giacomo siamo tutti con te Giacomo devi fare un bel punteggio vediamo così giusto per arrivare al 10 giusto per arrivare al 10 ma ti immagini tutta la squadra che si fa 5-5-5-5 mamma mia impossibile Giacomo cosa stai facendo si sta abbassando un po' troppo vuole puntare a 4 attenzione il 4 è bello piccolo dai gira gira grande Giacomo mamma mia guarda come si è fermata la punta siamo allora 7-4 quindi ci sta ci sta assolutamente siamo a 11 punti ragazzi ora manca l'ultimo giusto dell'avversario dovrebbe essere no non ne manca l'ultimo no penultimo forse penultimo si prende il 5 così tutto carpiato di potenza dai dove va che cazzo bravissima così si fa oh bravissimo ragazzi no aaa tu puoi farlo 2 volte da là e arrivare al 5 si questo volevo volevi devi farlo più veloce che cazzo fa ti fermi vuoi prendere il caffè pure ti vuoi prendere il caffè prendi il caffè i trucchetti voleva fare ok e no che se va a sbattere al palo si chiude il paracadute ok 2 non gli interessa punta a 4 anche lui giusto punta a 4 anche lui vediamo lo vedo male lo vedo male no va troppo sparato oh no vabbè un mago cioè grandissimo dark cioè veramente siamo ci sta ci sta abbiamo completamente si abbiamo dominato abbiamo dominato mamma mia ci sta io pensavo di perdere sinceramente oh guarda 46.000 dollari raga approfittate di farla cioè si farmano i soldi qua che poi ragazzi si farmano i soldi per non fare niente che poi due salti sono niente di che abbiamo completamente dominato ha vinto sicuramente dark dal primo posto perché lui ha fatto 4-4 due volte vediamo sì noi il primo round abbiamo fatto un po' un cazzo vedi io secondo posto e vabbè non ti è piaciuta quindi 4-4-4-4-3 sei stata purizzata tu mi dispiace che dobbiamo fare no terzo posto comunque ragazzi per questo video è tutto era un video molto calmo se avete visto però volevo farvi vedere questa attività e magari approfittate per fare dei soldi visto che se fate primo posto vi da 46.000 dollari a meno che non mettete più round e giustamente vi da poi altri soldi e viene meglio per voi in questo caso le altre mappe magari lo faremo anche in qualche live questa attività visto che è carina non il massimo ma è carina per questo video è tutto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale passate dal canale di Laura ve lo lascio in descrizione mi ci becchiamo al prossimo video bella ciao 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 ciao